Il lavoro che stiamo preparando, siamo in molte persone, siamo 23 persone intorno a delle parole che sono una struttura, che è come una partitura, che stiamo mettendo in crisi attraverso un lavoro pratico, quotidiano, di accumulo di idee e di istruzione delle stesse. Cerchiamo di costruire la struttura per poi eseguirla come se fosse una vera e propria concertazione. Dal titolo Augustinian Melody, tradotto semplicemente in italiano, Melodia di Sant'Agostino, lascio aperta la questione. E' un modo per suonare la voce intesa come materia, solo come portatrice di un significato che è prettamente sonoro, che sospende innanzitutto il significato delle parole per affidarsi al significato della musica, in quanto portatrice alla musica di un significato che si manifesta.